Siamo con Todisco, il capitano del Liguez Aprilia al termine di questo derby davvero combattuto, davvero palpitante, emozionante. Voi avete avuto probabilmente la colpa di andare sotto nei primi minuti, due gol, poi c'è stata una reazione rabbiosa, alla fine il conteggio delle occasioni, insomma quasi vi sta stretto questo risultato. Qual è la tua analisi? Sì, come già detto siamo partiti in mare all'inizio, ci siamo ripresi nel secondo tempo, potevamo fare anche meglio. Ci sono state occasioni da sfruttare meglio e occasioni da non concedere ai avversari. L'impressione però è che la vostra squadra sia in costante crescita, avete forse qualche punto in meno rispetto a quello che vi aspettavate oppure più o meno il campionato che pensavate di fare? No, dobbiamo ammettere che ci aspettiamo un campionato diverso, magari con qualche punto in più, qualche pareggio di troppo, però stiamo migliorando, stiamo andando meglio e continueremo così. Dal punto di vista del gioco sicuramente tante belle notizie, tantissime occasioni da gol create, forse dal punto di vista difensivo che dovete migliorare di più? Direi difensivo e anche offensivo nel senso di concretizzare quelle occasioni che creiamo. Parecche occasioni non sfruttate e questo è il risultato.